Perché a noi la qualità c'ha rotta il cazzo! Viva la merda! Ma chi è questo? Mio figlio. Il figlio di Italo. Sì, sono il figlio di Italo. Ciao, ma oggi faccio tardi perché c'ho basche. Cato l'oglio. Ma vai, ma vieni, ma chi sono, eh, Pirletti, dimmi, chi sono? Ma altro che la tua ruota! Ma guarda che il mio falegname con 30 mila lire la fa meglio, eh. Va, non ha neanche le unghie, dai.